La terra ha tremato di nuovo e questa volta le scorse del terremoto che la scorsa notte ha avuto come epicentro ancora le zone del centro Italia, già duramente colpite ad agosto, si sono sentite a centinaia di chilometri di distanza. L'onda sismica si è propagata insieme alla paura seguendo il versante appenninico per raggiungere Cremone più su ancora fino al Trentino Alto Adige. Le scosse sono state avvertite nitidamente in città e in provincia, tante le telefonate ai vigili del fuoco e il passaparola sui social che hanno rilevato come nuovo movimento tellurico figlio del sisma di quest'estate e che secondo i geologi ha aperto una nuova faglia, sia stato molto forte. Magnitudo 5,9 l'intensità registrata nell'epicentro localizzato in provincia di Macerata. E tra i paesi che più hanno subito danni c'è anche Camerino, città d'origine del vescovo di Cremone Antonio Napoleoni, risparmiata dal terremoto estivo quando interi paesi si sono sbriciolati sotto le scosse ed ora coinvolta in pesanti crolli. La diocesi cremonese già attiva sul fronte di aiuti e soccorsi ha potenziato gli interventi, proprio Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Ussita e Visso erano state le tappe esattamente un mese fa del sopralluogo effettuato da Caritas Cremonese insieme al vescovo. Allora si stava pensando ad un progetto di gemellaggio che ora dovrà tenere presente dell'evolversi della situazione. Intanto rimane confermato l'appuntamento del 5 novembre alla Casa dell'Accoglienza, una serata a base di pasta alla Matriciana per non dimenticare le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto ed ora anche quelle del 26 ottobre.